Criminale nazista, i vaccini uccidono. Questo è il tono dei volantini lasciati dal gruppo Novax Vivi nei pressi dell'abitazione del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Lo stesso gruppo che a dicembre aveva inondato di commenti la pagina Facebook del vice sindaco e anche alcune testate giornalistiche, comprese Teletruria e Arezzo Notizi. Secca la replica della diretta interessata, non mi lascio certo intimidire, ha scritto in un comunicato Lucia Tanti, anzi resto piuttosto indifferente a questo attacco, non più generico ma personale. La mia posizione non cambia, sono orgogliosa del fatto che mi si consideri un simbolo pro vaccinazione. Nell'occasione Lucia Tanti, che nei giorni scorsi in piena solidarietà agli attacchi, alle minacce, alle USCA, aveva nuovamente messo a disposizione il proprio numero di telefono per quanti tra i cittadini necessitassero di informazioni su isolamenti, quarantene e vaccinazioni, ha voluto nuovamente ringraziare il personale sanitario ma anche gli aretini per la pazienza che stanno dimostrando in un momento di grande difficoltà. Nei prossimi giorni il vice sindaco sporgerà regolare denuncia. Intanto la polizia locale sta verificando la presenza di altri volantini simili in città, ma sembra che, oltre alle zone vicine all'abitazione del vice sindaco, non ne siano stati trovati altri.